Un come fasso un bel Liguori Un cos'è ancora meglio Che buono questo Liguori, che buono Popolo di Youtube Mi so, ma sta in versione padovan Appena vi buto un Liguori alla liquirizia Che esede una bontà unica E oggi ha un sapore diverso Perché arriva dopo un gran gol di Liguori Che ha impattato benissimo nella gara Per me non è il migliore in campo, forse Ma poco ci manca Un bel set in pagella se lo prende tutto Strameritato Devo dire che le mezze punte che abbiamo Quelli che giocano dietro la punta Mi stanno piacendo veramente tanto Già contro la Provercelli si era visto qualcosa Ma anche con la Juve Under 23 si è visto ulteriormente Che la nostra squadra Comunque Dietro le punte gioca molto bene Benissimo anche Russini Secondo me Che ha fatto una gran prova Molto bene Molto bene tutti comunque ragazzi Forse Ma Forse un po' Ghirardello Non mi è piaciuto Ecco Forse ecco Perché dietro la punta Bene ma la punta Qualche problemino ce l'ha Comunque Si vince in una trasferta difficile Al Mokagatta Stadio Sempre che mi fa venire la pelle d'oca Che mi ricorda quella cazzo di partita Con l'Alessandria Però Andiamo a vincere È la terza vittoria consecutiva Se non sbaglio Abbiamo vinto i playoff Se vi ricordate L'anno scorso abbiamo vinto i rimonti Quest'anno invece andiamo Sull'1-0 E 2-0 Nel secondo tempo Primo tempo Forse siamo stati un po' più bloccati La Juve è una squadra Ostica comunque È sempre una squadra difficile Da affrontare Però Diciamo che Primo tempo è stato da pareggio Poi però Sciocchezza di uno di loro Che si fa espellere Dopo lì il Padova Prende il dominio del campo Comunque sulle fasce Duelli Basic e Jelenic Li vincono tutti Secondo me Sono entrambi da 7 in pagella Forse Basic 7 più addirittura Basic mi è piaciuto tantissimo Ha fatto una gran partita Sulla fascia destra Che altro ragazzi Andiamo in vantaggio noi Col gol di Liguori Gran bel gol Grande azione Più che gran gol Grande azione ragazzi Veramente una grande azione Poi dopo Entra anche Piovanello Che fa anche lui L'ennesima grande partita Anche se Da subentrato Cioè Sempre bene Un giocatore che sta facendo Grandi cose E poi ragazzi Il gol di Cretella Ha tirato un siluro Imprendibile Gran gol E per me Cretella ragazzi È il migliore in campo Ha fatto una partita Da padrone del centro campo Ogni azione del Padova Partiva da lui E Quindi Per me è da 7 e mezzo Gol vittoria Perché quel gol poi vale la vittoria Male Dezzi Ecco Dezzi Anche non mi è piaciuto Perché A sbaglia il rigore B Non ho visto lo stesso Dezzi Della partita contro il Vicenza Non ha giocato male È che pesa tanto Quel rigore sbagliato Sarebbe stata anche una partita Da 6 in realtà Però il rigore sbagliato Non me lo devi sbagliare Perché siamo ancora nel primo tempo Siamo Siamo in parità Una partita che è bloccata E tu mi sbagli il rigore Dezzi No No Cazzo Non devi sbagliarlo Dopo l'avevi anche tirato benino Tutto sommato Ma devi inquadrare la porta Non mi interessa che cerchi di tirarlo all'incrocio Devi far gol I rigori non si sbagliano Forse è anche il caso di cambiare rigorista Non lo so Adesso è troppo presto per dire Dezzi No Non tirare più i rigori Comunque sia Ecco oggi lo pacchetto un po' Dezzi Il pacchetto difensivo Mi è piaciuto Ha funzionato bene Con Calabrese Valentini E Belli Donna Rumma Tranquillo Partita da 6 E Ecco Sai cosa Peccato un po' per quel rigore Alla fine Che ha ridato un po' di speranza Anche se poi Bisogna dire la verità Gli ultimi minuti Non abbiamo sofferto Siamo stati attenti Non ho visto gli svarioni difensivi Dell'anno scorso Questo mi fa molto più piacere E Però c'è un rigore E Healing se lo guadagna di mestiere Bravissimo Ingenio I nostri Gol del 2 a 1 E Ecco Unica Unica appunto Sbavatura difensiva Secondo me E Ah vabbè Tra l'altro il portiere lo stava anche per parare Purtroppo Non è riuscito a imprimere tanta forza Nella deviazione E la palla È entrata allo stesso alle spalle di Donna Rumma Comunque sia Bene L'abbiamo vinto Ancora in difesa Secondo me si deve migliorare un pochino Perché quelle disattenzioni là Alla fine Non le devi avere Perché certe partite Saranno più tirate di questa Ci sono squadre più difficili Della Juve Sicuramente Però Sto vedendo una squadra in crescita C'è gioco Le azioni sono coralli Non sono azioni personali La squadra La squadra magari ha Meno tecnica Rispetto all'anno scorso Però forse ha un gioco migliore In questo momento La difesa si sta compattando Non è più quella difesa imprecisa Delle amichevoli O anche della prima di campionato Che è un po' stata imprecisa E quindi a Caneo Io ragazzi Guardino che sei e mezzo Ho in questa partita A Caneo Perché Perché vedo che la squadra Sta migliorando molto Forse ho fatto Forse ho Diciamo Esagerato Nelle critiche all'inizio Anche se ci sono andato piano Essendo solo la prima di campionato E considerando Che c'è stato un ridimensionamento Però in questo momento Sta avendo ragione Caneo Voglio vedere le prossime Però se il Padova gioca così Per me si può togliere Tante buone Belle soddisfazioni Poi il girone non si vince Magari come ho detto Il Padova non è la più forte del gruppo Ma non è neanche seconda Più forte del gruppo Però con questo gioco Chissà Dove arriveremo Non lo so Non è che abbiamo tante pretese Quest'anno Comunque se vedo una squadra così Va bene Poi arriviamo dove arriviamo Però voglio vedere la squadra giocare bene Bene ragazzi Iscrivetevi al mio canale YouTube Se volete Se volete Mettete mi piace Sempre forza bianco scudati Ciao